L'Università Lewis diventa laboratorio di Open Innovation, ospitando la sesta edizione del World Open Innovation Conference, appuntamento mondiale organizzato dal Gerwood Center for Corporate Innovation della Berkeley University, facendo incontrare a Roma i massimi esperti della materia e rappresentanti di aziende globali. La conferenza è parte di un percorso di ricerca che la Lewis ha intrapreso sull'Open Innovation, con un focus specifico sull'Italia e l'ecosistema delle piccole e medie aziende. Il progetto di ricerca, partendo da un primo sondaggio sul grado di apertura all'innovazione di un gruppo di imprese italiane, analizza fattori che favoriscono processi di flessibilità e cause che invece rendono le organizzazioni aziendali più rigide e restie al cambiamento. A spiegarlo è il rettore della Lewis, Andrea Principe. Lewis ha avviato un percorso sia di ricerca che di didattica sulla innovazione e sull'Open Innovation in particolare da tempo. Abbiamo il più grande gruppo di ricercatori a livello nazionale che si occupa di Open Innovation, stiamo sviluppando un indicatore internazionale per misurare l'Open Innovation delle imprese italiane e internazionali e quindi con l'arrivo di Cesboro, con la Mare Technical Chair in Open Innovation, la prima al mondo, sicuramente segnala al mondo che Lewis è sull'innovation. Perché vogliamo essere i primi al mondo sull'innovation, sull'Open Innovation e quindi avere il padre dell'Open Innovation in Lewis è sicuramente un segnale importante. Alla conferenza partecipa il padre del paradigma di innovazione aperta, Henry Cesboro, professore della Berkeley University e neodocente della Lewis. L'Open Innovation è un modello distributivo di collaborazione tra differenti organizzazioni per mettere a punto nuove ed entusiasmanti idee. Ci incontriamo qui in Lewis, a Roma. È il sesto meeting e il secondo in Europa. Per me rappresenta l'impegno di Europa, Italia e Lewis per una nuova ricerca sull'innovazione. Secondo la sua opinione c'è un gap tra l'Italia e il resto del mondo? Io non vedo un gap tra l'Italia e il resto del mondo, ma in questa conferenza stiamo affrontando il gap tra industria e mondo accademico. Penso che se potessimo chiudere questo gap sarebbe una cosa buona per l'innovazione. La Lewis ha altre iniziative in cantiere. A gennaio ospitiamo lo European Innovation Forum, che è un forum dedicato soltanto alle imprese per quanto abbia una guida accademica e l'obiettivo è quello di permettere a circa 20 imprese europee di condividere le best practices sull'open innovation. Abbiamo tante imprese, sia piccole che grandi, che hanno adottato l'approccio dell'open innovation. Ci manca ancora qualcosa in termini di creazione dell'ecosistema dell'innovazione aperta dell'open innovation. Quindi diciamo che abbiamo un gap, ma il gap, come possiamo dire, è anche una grande opportunità per noi.